a tutti i social network sono iscritto e dal pc vi aggiorno tutto il giorno proprio come un vero per esempio sono al cesso diviene evacuation time ho un cuore condivido la fotina del gattino però ieri ho preso a calci quello vero del vicino metto status frecciatine per gli amici e per le ex sono vittima del mondo tutti stronzi tranne me sono social network man con la mia celebrità lo ha detto preuoro giusto qualche tempo fa lui ci ha visto bene ma non ha previsto che il social network man sarebbe stato così tre a filosofo mi atteggio e cito solo grandi artisti rubo frasi a bimbe minchia o ad alcuni extronisti di spammo di cagate videoscemi e di giochini petizioni per fermare lo sterminio moscerini sono un follower moderno il blogger più multimediale faccio la rivoluzione sì ma solo nel virtuale sono il sex symbol di tutte le ragazze tranne te cosa aspetti questa notte cercami su chat roulette sono social network man con la mia celebrità lo ha detto preuoro giusto qualche tempo fa lui ci ha visto bene ma non ha previsto che il social network man sarebbe stato così tre io sto troppo incasinato non ci sono quasi mai sono pieno assai di impegni ma mi trovi sempre online se son fuori con le phone tutto proprio tutto il giorno nel frattempo l'amorosa se la trombano in un porno le mie foto sorridente pubblico in tempo reale fatte insieme a quel tamarro conosciuto nel locale sono al mare l'ho già detto a milioni di persone e di ladri indisturbati mi ripuliscono l'abitazione sono social network man con la mia celebrità lo ha detto preuoro giusto qualche tempo fa lui ci ha visto bene ma non ha previsto che il social network man sarebbe stato così tre ragazzi con tutto il cuore io mi devo dire grazie per questa serata per aver organizzato la cena delle medie su facebook non so perché in questi vent'anni non ci siamo più visti però è come se il tempo non fosse passato mai da rifare prossimo anno da rifare da rifare grazie a tutti 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 grazie a tutti